Ci sono tanti maestri che raccontano, raccontano, raccontano. Io non vi racconto nulla, vi faccio semplicemente vedere. Quando si racconta si può lavorare anche di fantasia, quando si mostra, non è possibile. Lascio partire un angolato rovescio piuttosto rimbalzato. Disponendo la coda come da fermo immagine successivo. Le varie correnti dell'uovo si mangeranno in fretta quella coda morbida e curva. Alzo leggermente la canna per assecondare il tragitto della mosca, anche in questo caso secca. Un attimo prima della boccata il tutto si troverà in questa posizione e la trota sale rabbiosa. Altrettanto veloce e secca sarà la ferrata. Sto usando una graffite di 8 piedi e mezzo, una coda DT del numero 4, il mio solito finale da mosca secca, e un tip decisamente lungo, 2 metri, 2 metri e 50, di 0,18. Visto che in queste correnti non si può e non si deve andare tanto per il sottile, perché la bestiaccia è sempre dietro l'angolo. Queste macrostigme pure non le prendete alle 8, alle 9, alle 10 di mattina, o alle 3, alle 4, alle 5, alle 6 di pomeriggio. Queste trote macrostigme pure le prendete alle ore 13, ossia per essere più precisi diciamo che il loro range va dalle ore 12 alle ore 14 e non oltre. e non prima, perché la loro alimentazione è strettamente collegata con la schiusa eventuale che si verificherà nel fiume o torrente specifico. Quindi per poterne accarezzare qualcuna, oltre ad una tecnica di pesca molto molto evoluta, è necessario possedere la giusta imitazione presentata nel giusto modo e nel giusto orario. Diversamente sarebbe solo tempo perso. Non è che al di fuori di questi orari non si prenderebbero trote, ma si prenderebbero quelle trote che sono fresche fresche, di secchio o provenienti comunque da vasche d'allevamento. Perché io, dopo 70 anni di pesca musca a 360 gradi, ossia ninfa, secca, streamer, sommersa, le so tutte e non faccio finta di sapere come alcuni, io le so per davvero e le metto in pratica. E il risultato, ecco qui, lo potete vedere e toccare. Carissimi professori, contro i fatti non ci sono parole che tengono. Mettetevi il cuore in pace. Io non ho segreti. Come tutti i nonni, cerco di trasmettere tutte le mie conoscenze e le mie esperienze. Cerco soprattutto di trasmettere una filosofia di pesca antica che oggi forse è andata perduta. Ad esempio, dopo aver effettuato questa stupenda cattura, erano esattamente le ore 13 ed io ho smesso di pescare perché la cosa era più che sufficiente per me. Passare, come fanno moltissimi pescatori a mosca, 12 ore lungo un qualsiasi fiume torrente a bucare trote su trote è per me una vera e propria vergogna. Ma non l'avete capito che ne basta una sola. Ma come Dio comanda, però! La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altri tempi. È solo diversa. Diversi e speciali, invece, sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo. Tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e come in tutti i grandi amori per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.